Sicilata la convenzione quadro denominata Tenamo città universitaria, la prima mai stipulata fino ad oggi tra il comune e le unite, uno strumento volta a regolare i rapporti e fungere da traino per il coinvolgimento delle altre realtà istituzionali del territorio. La funzione concreta delle attività sancite della carta verrà quindi tradotta in attività operativa da una commissione permanente che si riunirà con cadenza periodica e le cui attribuzioni saranno concrete e misurabili. Città in generale, la provincia, perché la convinzione è quella che l'università può dare molto anche al territorio nel quale insiste, quindi non solo formazione, non solo ricerca ma anche sviluppo economico. E penso che da parte di una città investire sulla propria università porti dei benefici enormi. Io ho in mente esempi storici tipo Urbino piuttosto che Perugia, proprio città che sono cresciute anche storicamente intorno alla cultura, intorno alla forza propulsiva della loro accademia. E' questo che mi piacerebbe fare. Quindi è un punto di partenza, Teramo Città Universitario è un protocollo, è un contenitore che dobbiamo riempire di contenuti. Interazioni sempre più strette, servizi, servizi per i nostri studenti che sono quelli che poi con la loro numerosità, insomma parliamo più di 5.000 unità che gravitano sulla nostra città, possono dare ulteriore impulso, riportare ad esempio attività culturali in centro, penso alla notte dei ricercatori, penso ad altre iniziative, ma sinergie, ripeto, sinergie istituzionali per lo sviluppo. Grazie.